Oggi il sito online www.michivettica.net tramite il suo responsabile Michele Pappagoda è in visita ai tempi di Pestum in Capaccio Scalo, dove si evidenzia una carenza di stradine accessibili ai diversabili in carrozzella, dove praticamente non possono visitare quasi niente a causa delle stradine dissestate che troviamo. La visita continua col responsabile del sito online www.michivettica.net ai tempi di Pestum in provincia di Salerno. Ribadiamo ancora stradine inaccessibili per la visita dei diversabili in carrozzella, dove per visitare un tempio trovano grossissime difficoltà. Ancora una volta i diversabili vengono esclusi da visite a questi monumenti storici. ci troviamo a Pestum oggi in visita. Ecco qui il tempio, il sito www.michivettica.net in visita a Pestum. Ecco Emanuele. Ci troviamo.